Hollas però si aspetta soltanto l'ufficialità, la differenza sostanziale è questa. Per Teder si aspetta che l'Inter si faccia viva con il Bologna o che ci sia questo contatto tra l'Inter e Bologna che non si sentono da un po'. I contatti risalgono almeno a dieci giorni fa, agli ultimi. La posizione del Bologna è chiara, 6 milioni più la seconda metà di Kreen, più un prestito con diritto di riscatto. Il Bologna vorrebbe inserire Duncan, vedremo se qualche altro giovane potrà farà il caso del Bologna, per la metà di Teder. Però, ripetiamo, non ci sono stati contatti nelle ultime ore. Al momento non sono previsti neanche incontri per oggi, però, insomma, teniamo gli occhi aperti, come si dice in questo caso, perché... Può succedere qualcosa. Sì, sono giorni caldi, basta 6, basta poco, basta una telefonata per far fissare un incontro. Non è che magari qualcuno la sta aspettando, e non ti suggerisco chi, ma magari, nel senso, è un paio di giorni che stiamo aspettando solo l'ufficialità per Wallas. Quando di solito c'è solo l'ufficialità, si incominciano a fissare le visite mediche o comunque non si aspettano un paio di giorni. Non è che magari, non ti voglio dire che è una seconda scelta, però si sta temporeggiando da una parte o magari anche dall'altra, per capire se c'è un'alternativa migliore? No, perché Wallas è un giovane molto interessante, che l'Inter prenderebbe in prestito. Dovrebbe essere tutto definito, ma non è escluso che sia l'unico. Al momento sembra difficile, è difficilissimo che l'Inter vada anche su un altro esterno. Però poi faremo una sorta di giochino. Se, ad esempio, Toir dovesse decidere di investire subito i soldi sul mercato, cosa potrebbe fare l'Inter? A quel punto potrebbe anche andare a prendere un altro esterno. Sarà, ripetiamo, una... Il mercato dell'Inter porta a questo tipo di soluzioni. Anche Luis Gustavo ha provato a prendere l'Inter, l'abbiamo detto prima. Davanti alla richiesta cash del Bayern, l'Inter ha detto no. Soprattutto a titolo definitivo era impossibile. Può interessare solo in prestito. Tra poco saremo a Roma da Veronica Baldaccini, perché lì si ritroverà la nazionale di Prandelli, lì anche l'Argentina. E allora, vado con un nome che unisce sia Italia che Argentina. Osvaldo, il nome di Osvaldo, che raggiungerà Cesare Prandelli. Potrebbe unire anche l'Inter, perché sarebbe il preferito di Mazzarri, se dovesse puntare su qualcuno in attacco. Però costa anche lui troppo per questo momento di mercato dell'Inter. E la Roma vorrebbe cederlo soltanto in prestito. C'è il Wolfsburg, c'è su di lui lo Zenit, c'è il Southampton. Insomma, ci sono squadre straniere che andrebbero benissimo alla Roma. Però il giocatore ancora, ad esempio Wolfsburg, come destinazione non lo scalda tantissimo, ci sta pensando. Chissà che magari non venga fuori qualche altra opportunità o chissà che magari...